Dorian, una vittoria storica. Tu penso che abbia fatto qualcosa che a pochi altri è riuscito. Esordio, prima gara, seconda gara in KZ2 e hai vinto la gara più importante che c'è al mondo in KZ2. Come ti senti? Sono molto molto contento. Ho fatto la mia prima sessione in KZ2 per 15 giorni. Per me è molto molto bene. Ho fatto una gara per me brava. È passata quando ho fatto le passate e dopo quando ho visto la bandiera. Sono molto contento e grazie a tutte le mie famiglie, a Energy Course, TM, il motorista dal dosso, la FFSA, l'OTSF Junior Team e tutti che stanno qui. Quando sei stato in competizione con gli altri sorpassi sei stato molto molto corretto. Durante l'anno dicevano che tu sei uno duro, che sei uno un po' a volte troppo duro. Invece in questa occasione sei stato veramente corretto. È cambiato qualcosa anche in te? Sei più sicuro di te stesso? Sì, sono più sicuro. Quest'anno ho appreso, ho imparato molto e adesso penso che sono un meglio pilota che prima. Quale ti piace di più? KF o KZ? Per me è diverso, mi piace tutti e due, ma il KZ mi piace. Più potenza? Sì, molto più potenza e la partenza mi piace molto. Sì, molto più potenza.